Forte interesse alla trasparenza, il richiamo per tutti a fare il proprio lavoro con senso di moralità e per coloro che hanno responsabilità su questa materia, rigore e chiarezza. È in estrema sintesi il messaggio lanciato durante la seduta straordinaria della terza commissione consigliare dal presidente della regione Basilicata, De Filippo, il quale ha ribadito che lo stato dell'ambiente nella nostra regione è sotto controllo. Il direttore dell'ARPAB, Vita, ha riferito che per Fenice occorre distinguere due fasi storiche, quella che va fino alla fine del 2008 e quella che ha inizio con l'anno successivo. La messa in sicurezza del sito, partita dopo la comunicazione dei superamenti, ha sottolineato, è un dato inconfutabile. Il dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Vivigiano, ha fatto rilevare che dal 2009 i valori inquinanti relativi all'area della Fenice sono in decremento. Si tratta ora, ha detto ancora Vita, di dare attuazione al processo di bonifica che potrà avvenire anche in tempi inferiori a quelli indicati da Fenice, stimati in 30 mesi. Il direttore dell'ARPAB ha poi parlato del monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali, facendo presente che la rete è stata incrementata con l'introduzione di parametri aggiuntivi. Per quanto riguarda il monitoraggio della Val d'Agri, Vita ha riferito che i valori sono sotto soglia e per il pertusillo limiti nella norma, anche se si rilevano in alcuni momenti livelli di fosforo che consigliano di verificare eventuali problemi rinvenienti dagli scarichi agricoli e dal sistema depurativo adottato nel comparto agricolo.